Ben ritrovati amici del Centrometro Italiano. Alta pressione e rinforzo sull'Italia con sole e clima caldo. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 11 settembre. Al mattino locali velature sul nord-est e regioni del centro ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Tempo asciutto anche nel pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi, locali acquazzoni solo nelle zone interne di Calabria e Sicilia. In serata è notata nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la penisola, temperature stazionarie o in lieve aumento specie nei valori massimi. Per ulteriori dettagli le seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.